Buongiorno, sono Flora Peivandi, responsabile del Centro Emofilia e Torombosi Angelo Bianchi Bonomi al Policlinico di Milano. In questo centro noi ci prendiamo cura di migliaia dei pazienti con problemi di emostasi, problemi emorragici e problemi trombotici. Oggi ci concentriamo particolarmente sul paziente emofilico, il paziente che ha un problema emorragico e quindi quello che abbiamo cercato di fare con il mio gruppo, negli ultimi anni particolarmente, come migliorare tutto quello che è l'esigenza del paziente. Dal punto di vista della multidisciplinarità, dal punto di vista di specialisti che servono per mantenere cura di questo paziente e quindi coinvolgendo un gruppo di specialisti, abbiamo dei psicologi, abbiamo ginecologi, abbiamo ortopedici, abbiamo i fisioterapisti, fisiatri e ematologi internisti. Tutto questo gruppo lavora insieme perché venga garantita proprio la cura del paziente emofilico e questo è molto importante in un momento del genere dove i prodotti emostatici chiaramente danno una protezione maggiore a livello articolare ma questo deve essere documentato. Dobbiamo capire come questi prodotti hanno ridotto le microemorragie, hanno aumentato la protezione a livello articolare e quindi monitorare almeno uno o due volte all'anno questi pazienti. Quindi voi avete un tour all'interno del mio centro e avete la possibilità di conoscere anche delle persone nuove che lavorano insieme con me per creare un gruppo del futuro del centro Angelo Bianchi Bonomi che si prenderà cura dei pazienti emofilico. Il primo specialista che il paziente emofilico incontra presso il nostro centro è il fisioterapista perché in questo momento viene fatta una valutazione del suo stato muscolo scheletrico. La valutazione è strumentale su una pedana baropodometrica e stabilometrica e funzionale. Si guarda quello che riesce a fare il paziente e sulla base di questo vengono date a lui dei consigli, degli esercizi che poi può fare anche a casa. In questo momento si dà al paziente l'indicazione se fare la fisioterapia di mantenimento post-operatoria o pre-operatoria. Un altro momento importantissimo è quello dell'approccio manuale che viene effettuato sul paziente e che permette al paziente di capire quanto può fare e come può migliorare la sua qualità di vita. Durante la visita internistica ed ematologica, dopo la valutazione del fisioterapista e dell'ortopedico, che valuta non solo lo stato articolare ma anche un'eventuale indicazione chirurgica, utilizziamo anche l'ecografia osteoarticolare per valutare il danno d'artropatia emofilica oppure per fare una diagnosi di emartro acuto che il paziente può riportare perché è clinicamente evidente, perché sente dolore, oppure potrebbe anche non riportare perché è causato da microsanguinamenti che passano inosservati e non vengono riferiti appunto dal paziente. Durante la visita internistica, inoltre, vengono valutate altre comorbidità, come l'epatopatia correlata a virus epatotropi oppure la positività per HIV, oppure anche il rischio cardiovascolare per i pazienti emofilici e vengono programmate una serie di valutazioni da parte degli specialisti del centro oppure da parte degli specialisti del policlinico. All'interno del percorso del paziente emofilico abbiamo pensato con la professoressa Peivandi di inserire anche una valutazione del rischio cardiovascolare in quanto i pazienti emofilici oggi hanno un'aspettativa di vita più lunga rispetto a quanto accadeva in passato e pari a quella della popolazione generale e quindi chiaramente non sono esenti da comorbidità cardiovascolari fattori di rischio come per esempio l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia e quindi all'interno di un ambulatorio dedicato di tipo cardiovascolare vengono sottoposti a ecocolordoppler dei tronchi sovraortici ed ecocardiogramma che viene eseguito da un collega che si chiama Francesco Tafuri e valutati per i fattori di rischio appunto cardiovascolari eventualmente viene indicata una corretta terapia per prevenire gli eventi cardiovascolari che chiaramente possono insorgere anche nella vita di questi pazienti. Altri aspetti fondamentali della salute del paziente emofilico e dei check-up annuali è la salute dei denti quindi noi seguiamo anche con valutazioni odontoiatriche presso i nostri colleghi della fondazione la salute dei denti ai nostri pazienti andiamo a individuare se ci possono essere dei segni precoci di parodontopatia che espongono il paziente a un rischio di sanguinamento gengivale e un'ulteriore accortezza per i nostri pazienti è quello di seguire nel tempo la loro salute ossea questo perché negli ultimi anni si è evidenziato che l'emofilia è un fattore di rischio per la riduzione della densità minerale ossea quindi andiamo a misurare la vitamina D e il paratormone e a supplementare la vitamina D laddove è carente. Spero che questo giro al centro Angelo Bianchi Bonomi sia stato utile è importante nel futuro avere più centri italiani che cercano di utilizzare la stessa tecnologia lo stesso tipo di approccio multidisciplinare in modo di avere una valutazione ematologica, internistica, ortopedica e anche con un ruolo importante dei fisioterapisti che veramente sono importanti quando noi creiamo questo tipo di algoritmi o questo tipo di percorso standard riusciremo nel futuro a collaborare insieme molto di più e anche poter fare una condivisione dei dati e cercare di capire meglio l'efficacia e la sicurezza di tutti i prodotti nuovi che sono a disposizione nostra per il trattamento dei pazienti vi auguro un buon lavoro e più collaborazione tra tutti i centri emofilici italiani nel futuro